Slitta tutto ancora una volta. Era infatti previsto per martedì il conferimento dell'incarico per le due perizie, una medico legale e l'altra psichiatrica, disposte dal gruppo del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli, su Peter Polverini, il 25enne accusato di omicidio volontario per la morte della quarantenne Katia Dello Marino, ritrovata senza vita e con la testa fracassata sul greto del torrente Afra lo scorso 12 luglio. A causa di un problema inerente alla citazione di un perito, il conferimento è stato infatti rinviato al 14 aprile. Per l'omicidio della donna il PM aveva chiesto una condanna a 15 anni per l'imputato. Il GIP al termine della scorsa udienza aveva stabilito che spetterà le due perizie e far luce sulla personalità del ragazzo. L'incarico quindi il prossimo 14 aprile verrà conferito ad un pool di esperti. La procura incaricherà Liliana Dell'Osso, responsabile del servizio psichiatria dell'ospedale di Pisa e Marco Di Paolo, primario di medicina legale a Pisa. Il gruppo invece nominerà lo psichiatra Roberto Biagiotti e il medico legale Roberto Testi dell'Aslo di Torino, mentre la difesa ha riconfermato il medico legale il dottor Angelo Stamile. Una volta conferito l'incarico saranno necessari 60 giorni per gli esiti, poi sarà possibile procedere con un nuovo dibattimento e quindi la sentenza potrebbe arrivare a luglio.